Eccoci ritornati in diretta, allora voglio subito dare il benvenuto al primo ospite di questa mattinata, il carissimo Don Francesco Preite. Pace e gioia Don Francesco, bentrovato. Pace e gioia Leonardo a tutti i telespettatori di Telepadre Pio. Allora, Don Francesco è presidente dell'Associazione Salesiani per il Sociale, una realtà nazionale importantissima. E stamattina nell'introdurre il programma ho voluto tracciare una sorta di parallelismo tra Don Bosco, San Giovanni Bosco e Don Tonino Bello, il santo che Don Bosco e il venerabile Don Tonino che ieri abbiamo ricordato nel trentennale della morte. Entrambi accomunati da un amore per la povertà educativa, per il disagio sociale, per tutto ciò che ha a che fare con le povertà e la povertà. E allora, Don Francesco, c'è un altro punto in comune potremmo dire oggi. Sono trent'anni dall'inizio dell'attività dell'Associazione Salesiani per il Sociale, ieri abbiamo ricordato i trent'anni della morte di Don Tonino, dunque sono tante le ricorrenze e i punti di contatto tra queste due figure importanti. Allora possiamo tracciare un bilancio di quella che è stata l'attività dell'Associazione Salesiani per il Sociale per partire? Sì, certamente sì. Facevi bene a ricordare questo paragone che, seppur per epoche diverse, e come si diceva sono accomunati tutte e due, dall'attenzione agli ultimi, agli emarginati, ai giovani, alle famiglie in disagio. I Salesiani per il Sociale nascono proprio trent'anni fa, sono state fondate dalle ispettorie italiane, dalle province religiose italiane e salesiane, proprio per dare una risposta ai bisogni sempre più crescenti della società del tempo. Siamo nati soprattutto per coordinare il servizio civile nelle varie realtà italiane, nelle varie opere salesiane, e poi sempre più a secondo dei bisogni che purtroppo crescono sempre più nella nostra società, con i rivali territoriali molto più evidenti, con diseguaglianze sociali molto forti. Ecco, i Salesiani si sono interessati di rimuovere quelle che sono le barriere, le difficoltà che non permettono la piena inclusione sociale, il pieno inserimento nel mondo del sociale appunto dei ragazzi. Oggi abbiamo cinque aree di intervento, una appunto, l'abbiamo ricordato, il servizio civile, abbiamo la grande area della tutela dei minori, che comprende tutte le nostre case famiglie, i centri diurni, i progetti sociali ed educativi, e poi abbiamo ancora l'attenzione verso i migranti e i profughi. Quest'anno, o meglio l'anno scorso, ci siamo interessati sia dell'emergenza ucraina che dell'emergenza afghana, accogliendo queste famiglie in grave difficoltà che scappavano dalla guerra. E ancora abbiamo il tema della formazione, la rete associativa, quindi con l'accompagnamento sul territorio delle nostre opere, dei nostri servizi sociali. E infine un tema molto nuovo che a noi ci sta in qualche modo a cuore, che è l'aiuto per i giovani NIT, cioè l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani. Ecco, noi crediamo che partire dai bisogni primari dei giovani possa aiutare, non soltanto essere felici nel tempo, ma anche nell'eternità. Ecco, c'è bisogno oggi di costruire un pezzo di paradiso insieme e dare la possibilità ai ragazzi di realizzare la propria vocazione, il proprio desiderio di felicità. Vicinanza a 360 gradi, allora potremmo dire, Don Francesco, una vicinanza che si è concretizzata anche nel periodo più duro della pandemia. Ora che le attività sono ripartite per la maggior parte, quello che voglio chiederti allora è cosa vuol dire lavorare per i giovani, essere stati anche a loro fianco, anche se tu sei presidente dell'associazione da poco meno di un anno, diciamo da settembre del 2022. Però comunque la vicinanza che anche tu hai avuto negli altri contesti in cui hai lavorato si è resa evidente ed esplicativa, come dicevamo, anche negli anni più duri della pandemia. Ecco, quello che voglio chiederti allora, cosa vuol dire lavorare per i giovani dopo questo periodo duro per tutti? I giovani sono l'anello più debole della società, si parla molto dei giovani, molto spesso li si colpevolizza pure, in realtà non bisogna soltanto lavorare per i giovani, bisogna iniziare con lo stare con loro, cioè insieme a loro provare a immaginare un futuro migliore, un futuro fatto di accoglienza, di solidarietà e di impegno nel mondo sociale e del lavoro. E quindi bisogna partire dall'ascolto, cioè dal dialogo con loro, dal capire i loro bisogni, dal mettersi accanto. Soltanto se si sia accanto in un clima di amicizia, di confidenza, è possibile poi insieme a loro costruire un futuro migliore, perché poi diciamo, ecco, noi come realtà salesiana siamo chiamati proprio a fare questo, cioè a camminare un pezzo di vita insieme ai giovani e provare con loro di aiutarli a rimuovere gli ostacoli, difficoltà, ad affrontarle insieme queste difficoltà per pensare appunto a un futuro più dignitoso. e fanno un po' paura i dati che ci vengono raccontati, si parla ancora di un milione e quattrocentomila minori in povertà educativa e di circa il 25% di giovani in it. Sono due fenomeni molto collegati che ovviamente al di là dei dati ci sono volti, storie, percorsi, fragilità e anche belle speranze che meritano di essere ascoltate, accompagnate e vissute insieme. Ecco, stare insieme ai giovani significa insieme con loro costruire un futuro migliore. Permettimi di trovare una parola chiave, Don Francesco, che è fiducia, ecco, perché i giovani hanno bisogno di fidarsi e di affidarsi. Ecco, vorrei un po' provare a declinare in questo modo un po' il concetto che tu ci hai espresso in maniera molto chiara, anche perché andando avanti con le attività dell'Associazione Salesiani per il Sociale, voi avete in qualche maniera messo a terra il progetto che Papa Francesco ha dato un po' a tutta la Chiesa, quella di organizzare la speranza, che è un'espressione bellissima, è un modus operandi che poi troverà il culmine nell'evento di luglio in cui voi in qualche maniera andrete a fare un primo reso conto, un primo bilancio di quelle che sono le attività messe in campo per il trentennale. Puoi anticiparci qualcosa rispetto a queste progettualità intraprese? Sì, e questo è un percorso bello di progettazione al basso, cioè abbiamo immaginato per scrivere un documento strategico, un documento programmato... Scusami Don Francesco, qui abbiamo ancora Don Tonino come sottofondo. Assolutamente, infatti ci ha ispirati, adesso ne parlerò pure, dicevo proprio per costruire questo documento nazionale abbiamo ipotizzato non di chiuderci a Roma nell'ufficio, scrivere un documento e poi proporlo in tutta Italia, ma fare il procedimento inverso, cioè organizzare la speranza dai territori. Quindi abbiamo attivato un percorso sui vari territori italiani lasciandoci ispirare da questa frase di Don Tonino Bello, non basta, non bisogna solo sperare, bisogna organizzare la speranza. Una frase che poi Papa Francesco nella giornata mondiale dei poveri del 2021 ha rilanciato, ha rilanciato dicendo appunto che la Chiesa deve farsi sempre più prossima, deve essere sempre in uscita, deve essere attenta al mondo delle povertà, delle diseguaglianze. Ecco, adesso abbiamo attivato poi a partire da questa frase di Don Tonino Bello un percorso sui vari territori, quindi è stato interessante ascoltare, incontrare i volti di tanti operatori che sono impegnati da nord a sud nelle opere e servizi sociali salesiani, perché insieme con loro abbiamo potuto riflettere e fare delle proposte per migliorare il nostro modo di animare, per essere più attenti. Ecco, Don Tonino Bello, l'abbiamo appunto citato, è ispiratore in questo perché era un prete dedicato agli ultimi, si rimboccava le maniche e come Don Bosco è stato molto in periferia, è stato molto con i desideri della gente. In questo mondo in conflitto, essere costruttori di pace è un grido, è una speranza concreta da invocare e da costruire insieme. Allora anche questi percorsi di raccordo nella nostra Italia ci aiutano a costruire insieme un mondo di pace, un mondo più solidare, un mondo più inclusivo, con l'attenzione tipica del nostro Don Bosco che è l'occhio per i giovani, la predilezione per i giovani, perché appunto, come dicevo, è l'anello più debole in questo momento della società italiana e vorremmo insieme a loro ipotizzare e costruire un documento che abbia come fine quello di poterli aiutare in questo nostro mondo. Questo percorso che ha visto appunto la presenza nostra sui vari, come dicevo, da nord a sud, si concluderà a giugno nell'Assemblea nazionale. Abbiamo organizzato la speranza, andiamo verso la costruzione di comunità più solidali e più attente. Avremmo costruire insieme ai territori, con l'ascolto di quest'anno, una rinnovata attenzione alla nostra Italia, cercando di sanare i vivari territoriali, di avere un occhio di attenzione, come dicevo, proprio per i più piccoli, per i più giovani, che sono appunto la parte più debole, ma anche la parte più fragile, più bella, se vogliamo, della nostra società. Le case Don Bosco in Italia sono decine, accolgono decine di migliaia di minori, abbiamo progetti educativi, qualcuno tu l'hai citato, progetti di accoglienza, progetti di supporto, stiamo vedendo anche il sito internet che è una miniera da questo punto di vista, quindi chi vuole in qualche maniera interessarsi alle attività dell'Associazione Salesiani per il Sociale trova tutto sul sito internet. Noi Don Francesco siamo in chiusura, io vorrei chiederti e farti una domanda che credo riporti un po' anche alle origini della vocazione salesiana e chiederti appunto qual è il di più, detto tra virgolette anche perché il di più è anche un'espressione molto bella, di questa opzione salesiana, di questo metodo di San Giovanni Bosco. Noi cerchiamo di coniugare nelle nostre proposte una prospettiva spirituale perché agiamo in nome per conto di Dio, ma anche una prospettiva sociopolitica perché agiamo come agendi di cambiamento nelle società nella società civile nella quale siamo inseriti e quindi questa doppia, questa duplicità della nostra proposta ci permette di essere da una parte inseriti nel contesto sociale ma nello stesso tempo di essere aperti alla trascendenza, nel rispetto delle religioni di ognuno, della libertà religiosa di ognuno. Però ci sembra interessante soddisfare, venire incontro, aiutare i bisogni dei ragazzi, delle famiglie in disagio senza tradire l'apertura alla trascendenza, senza tradire l'apertura a quello che ci rimanda, la felicità senza fine, che è appunto il fine per il quale siamo stati creati. Don Francesco, allora io ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, è sempre un piacere ascoltarti e vederti, siamo questa bella amicizia che c'è, vogliamo che si rinsaldi anche attraverso il legame con Don Tonino e San Giovanni Bosco che sono davvero due figure straordinarie. Grazie e pace e gioia. Pace e gioia, i santi fanno alleanze, dobbiamo farle anche noi per il bene dei più piccoli e dei più fragili. Grazie a te Leonardo e buona giornata a tutti. Grazie, grazie ancora a Don Francesco Preite, noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi parleremo ancora di Don Tonino Bello, questa volta in formato famiglia.